Passa la bozza di statuto della nuova Pescara nell'assemblea svoltasi nella Sala Consigliare del Comune. Un passaggio che però ancora non basta a dare certezze al progetto per quella che dovrebbe essere la più grande unificazione tra città d'Italia, Pescara, Montesilvano e Spoltore. Nessuna garanzia di riuscita, nonostante una legge regionale approvata a marzo e una scadenza fissata il 1 gennaio 2027. Da allora dovrebbe vedere la luce la grande città metropolitana che si estenderà su circa 100 chilometri e che conterà una popolazione di oltre 200.000 persone. L'iter che iniziò a maggio del 2014 col referendum consultivo che vide prevalere il sì con 64% dei consensi sta generando malumori, polemiche e veti incrociati su nome e giunta. Chiara Trulli, sindaca di Spoltore, perentoria. La maggioranza assoluta dei consiglieri ha votato lo statuto, uno statuto nel quale la denominazione della città risponde a quello che era il referendum, cioè Nuova Pescara. Più radicale Ottavio De Martinis, il sindaco di Montesilvano non è affatto convinto che si arriverà al risultato. Da quando è iniziata questa storia noi sentiamo di volta in volta minacciare prima commissariamenti, poi annullamenti dei municipi per il tramite la votazione del Statuto di Pescara. I cittadini ci chiedono, ve lo posso assicurare, che se proprio deve essere, e questo è sintomatico perché non sono tutti convinti così come dicono, anzi molti sono molto contrari a questo processo, almeno che possono avere dei servizi sul territorio. Il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, chiarisce che occorre un passo di lato da parte di tutti. Per esempio se noi scrivessimo uno statuto che per i prossimi dieci anni comunque gli stanziamenti saranno proporzionali alle dimensioni del territorio, credo che questa sia una forma di garanzia adeguata sia per Spoltore che per Montesilvano. Le giunte non sono una garanzia perché come ho detto se il Consiglio Comunale che verrà non dovesse delegare quasi nulla ai municipi, ecco è del tutto evidente che avremmo creato degli organi costosi ma del tutto svuotati di poteri e competenze e credo che questo non faccia comodo a nessuno. Un clima di calma apparente qui nella sala consigliare del Comune di Pescara, ma il percorso si sta facendo sempre più irto di ostacoli con due fazioni che sono nettamente contrapposte, quella dei cosiddetti piccoli Montesilvano e Spoltore che non mollano su alcuni temi e quella di Pescara che altrettanto ci tiene a mantenere la denominazione attuale della città che sarà, se sarà e anche a non inserire degli assessori che invece Montesilvano e Spoltore richiedono. Grazie.